Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo l'ultimo sondaggio per l'agenzia noto, fatto per porta a porta di Raiuno. Così si chiude l'anno per Fratelli d'Italia al 28,5%, il Movimento 5 Stelle al 18,5%, il Partito Democratico al 16%, la Lega al 9,5%, Forza Italia all'8,5%, Azione Italia Viva all'8%. Vediamo un notevole calo del Partito Democratico dopo aver perso le elezioni e la stessa perdita, meno 3,1%, la vediamo in guadagno nel Movimento 5 Stelle, più 3,1%. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci e grazie.